Sono una piccola delegazione di consiglieri comunali e imprenditori che dall'isola di Pasqua nel Pacifico, esattamente dalla città di Rapanui, sono venuti a visitare Ferrara, Comacchio, Voghera e Bologna in cerca di modelli di sostenibilità per la loro isola, un progetto sostenuto dall'Università di Ferrara. L'Università di Ferrara e il Master Ecopolis sono stati nell'isola di Pasqua, Rapanui, dal 15 agosto al 12 settembre del 2010. Abbiamo lavorato con 20 studenti internazionali e 8 professori del Master Ecopolis e dell'Università di Ferrara. È stata un'esperienza ovviamente straordinaria, si è fatto un lavoro di veramente notevoli dimensioni e di notevole qualità. Mi diceva poco fa il sindaco che alcuni dei progetti che sono stati sviluppati durante la nostra permanenza adesso l'isola e il governo cileno li stanno portando avanti. La sindaco di Rapanui e la governatrice dell'isola di Pasqua in questi giorni in città hanno già un legame con il nostro paese. Entrambe infatti vantano origini italiane rispettivamente da Genova e Firenze. Siamo a Ferrara con il Consiglio pubblico e privato di Rapanui grazie all'Università di Ferrara e perché abbiamo tre cose in comune. Il patrimonio UNESCO che ci unifica, il problema di gestire il patrimonio e la sostenibilità dell'ambiente. Gli elementi che caratterizzano in particolare l'isola di Pasqua sono tre. L'archeologia, il suo grande patrimonio, la cultura Rapanui e la nostra lingua per noi molto importante è infatti la scuola per non correre il rischio di perderla. E poi il Tapatì che è un evento della tradizione Rapanui aperto a tutte le culture esterne. Accanto ai momenti istituzionali ci sono stati anche quelli di studio presso la Facoltà di Economia e infatti la delegazione ha seguito un incontro nel quale è stato illustrato loro il lavoro svolto dal Master Ecopolis nell'isola di Pasqua un anno fa. Ma è stato anche osservato il piano urbanistico Uteco approntato per Pantelleria, un piano che si basa su tematiche urbanistiche di gestione dei beni culturali simili a quelle dell'isola di Pasqua. Il lavoro è consistito diciamo in una serie di analisi di natura ambientale, una serie di analisi relative all'offerta ricettiva di cui l'isola dispone e quindi una traduzione in termini di superfici da destinare all'attività edilizia nell'isola per i prossimi dieci anni. Altri aspetti affrontati dalla delegazione quelli del turismo naturalistico, in particolare in un incontro con i responsabili del Parco del Delta del Po. Infine la delegazione dell'isola di Pasqua è stata anche ricevuta dal rettore dell'Ateneo Estense, il professor Pasquale Nappi, un incontro durante il quale è stato firmato un accordo per portare avanti i progetti di scambio tra le due università. Questa visita ha un valore aggiunto, ha un valore aggiunto importante perché non capita tutti i giorni di avere una delegazione che viene da un posto così lontano e così particolare che offre delle prerogative anche di studio che sono sicuramente di interesse per i nostri ricercatori e contemporaneamente portano cultura, portano formazione, portano esperienza che si è maturata nelle nostre realtà. Al rettore Nappi è stata donata una preziosa collana realizzata con conchiglie che si trovano solo sull'isola di Pasqua. Un dono è stato ricevuto anche dalla delegazione. Si tratta di una pubblicazione che parla proprio del loro territorio. L'autore di questo libro è Dante Bighi che nel 1986, grazie ad uno dei suoi viaggi fatti, ha deciso di realizzare insieme ad un importante artista internazionale, Pierre Stany, nel novembre del 1986, questo libro che appunto ci parla dell'isola di Pasqua, ci parla della cultura di coloro che abitano questa isola e ci parla soprattutto della terra di questa isola. Aiuto alla ricerca di Unife, donale il tuo 5 per 1000. Sostenere la ricerca dell'università significa far sì che il talento dei giovani si trasformi in occasione di crescita ed una vita migliore per tutti, ma la ricerca richiede un grande investimento di energie e risorse e soprattutto di attrezzature senza le quali la ricerca oggi è impossibile. Purtroppo le risorse dell'Ateneo disponibili per l'acquisto di attrezzature e per finanziare la ricerca scientifica e tecnologica negli ultimi anni si sono progressivamente e drasticamente ridotte. Ciascuno di noi però può fare un gesto importante per sostenere questo vitale settore della nostra università e del Paese. Oggi possiamo contribuire a sostenere la ricerca dando con il 5 per 1000 un aiuto concreto e un segnale collettivo forte in grado di valorizzarla. Sostenere con il 5 per 1000 il nostro Ateneo è facile. Basta firmare nell'apposito riquadro del CUD 2011, del modello 730 2009 Redditi 2010 o del modello unico persone fisiche 2011 e riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell'Università di Ferrara 800 07 37 03 82 Sono più di 1200 gli studenti extracomunitari nell'Università di Ferrara e di questi 30 ragazzi africani fanno parte di un'associazione, l'ASCAF, che vuole integrarsi il più possibile con il mondo dell'Ateneo e della città. E per farlo ha organizzato anche quest'anno la Settimana dello Studente. Giunta alla sua quinta edizione, conta quattro appuntamenti tra musica, bagli e sport e un convegno sulle sfide e le opportunità dei Paesi emergenti. Siamo un'unica grande collettività e in questa direzione bisogna porre in essere azioni concrete, azioni positive e queste sono una parte delle attività che poniamo in essere. La Settimana dello Studente è organizzata dall'ASCAF che svolge anche attività di accoglienza matricole. Un'associazione che è nata in 1992 come associazione dei studenti camerunesi che da quest'anno è diventata un'associazione dei studenti del continente africano. E' nata l'associazione perché abbiamo il desiderio di integrarsi e siccome abbiamo il desiderio di integrarsi e soprattutto di integrarsi con la cittadinanza ferrarese abbiamo messo in piedi questa associazione per questo scopo. Dopo un anno badando a me stesso mi sono messo d'accordo con gli altri che erano nella mia stessa situazione e abbiamo avuto l'idea di far partire il Welcome Day. Attraverso questo gli ultimi due anni in cui stiamo già portando avanti il progetto tutti gli studenti riescono in quanto possibile di compilare la domanda in tempo e poi essere accolti, essere messi sui binari quando arrivano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.